Buongiorno a tutti, questo è TG Yenni, il TG che vi tiene in formato 24 ore su 24 del cazzeggio che fa Yenni. Il nostro soggetto, Enrico Yenni, nel pomeriggio del 4 agosto ha tentato un suicidio a Pastrengo. Abbiamo l'inviato che è all'ospedale, il nostro Simone Marconi, al quale possiamo dare la linea. Sentiamo. Sì, grazie Mirko del collegamento, sono fuori dalla stanza di Enrico Yenni, stanza numero 4 dell'ospedale di Peschiera e stiamo aspettando che apri l'orario delle visite e intanto ti ridò la linea. Sì, allora mi chiedono di attendere un attimo finché si arriverà l'ora della pausa visite, quindi intanto mandiamo il servizio su questo attentato di Yenni, insomma. Sì, grazie a tutti. Sì, Mirko, l'orario delle visite è iniziato, ora andiamo dentro a intervistare. A più pagliarsi di così non si può. Come sta? Bene. Ma cosa pensavo al momento dell'infortuna? Niente. Cazzo mi sono rotto un'altra volta. Cosa? Braccio. Veramente sarebbe il polso? No, il braccio. E anche il polso. Ok, va bene. Sono arrivati i genitori? Quindi? Non mi sbaglio. No, 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 no. Non mi sbaglio. 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 Allora. Cos'è che ha pensato? Lo dica, lo dica. Non mi sbaglio. Non mi sbaglio. Ma cosa è successo? Come è successo? Io stavo rappicando se non portare calci mi sono buttato. Perché hai salito sulla porta? Perché sei lanciato? Che i passi era passi. A chi era il fritto questo passi? A Mirko? Dica la verità. A Mirko? Dica la verità. A Mirko. A Mirko. Mirko. Ok, dai Mirko. Sì, tutto. Tuttiamo qua il collegamento. Sì, Mirko. Dall'ospedale il peschiera. È tutto lì nello studio. Anche per oggi è tutto, insomma. Abbiamo avuto buone notizie dal reparto Ortopedia di Peschiera, dall'ospedale di Peschiera. Quindi, questo è tutto. Da Pastrengo. A voi Roma. Anche per me Roma. Grazie a tutti. Ciao. Ecco a tutti. Grazie.